La socialità organizzata del mutuo soccorso e della cooperazione affonda le proprie radici in un periodo antecedente, l'urbanizzazione e i processi di industrializzazione. Infatti la prima società che nasce a Savona, anche a Savona, è data al 1850, quindi 11 anni prima dell'unità e ben prima dei processi di industrializzazione. Si tratta in questo primo periodo di fornire una risposta auto-organizzata alle esigenze primarie di operai, ma soprattutto si tratta di artigiani che quindi sono già qui residenti e ai quali è venuto a mancare il sostegno delle vecchie corporazioni ormai disciolte. Il mutuo soccorso offre i primi strumenti a tutela della salute, i primi strumenti educativi che sono in realtà anche più avanzati di quelli offerti dallo Stato all'epoca, Stato che è ancora il regno di Sardegna. Offre una prima risposta anche a un tipo di socialità che mentre era ben definita, aveva dei contorni ben definiti nella società rurale, nei processi di inurbazione inizia a sfilacciarsi, si inizia a perdere una determinata identità e non è ancora costruita quella identità che poi vedremo nei decenni successivi vicina al proletariato industriale. Quelli che nel mutuo soccorso iniziale vengono chiamati operai in realtà sono quegli artigiani a cui si rivolge il messaggio di Mazzini, ovvero coloro che vivono della loro opera e che poi in realtà nei centri urbani sono gli artigiani delle professioni, penso ai fabbri, penso ai ferrai, penso ai manescalchi, ai sellai, agli artisti, ovvero gli artigiani dotati di una specializzazione e qua abbiamo ad esempio il vetro tra le specializzazioni. Quindi una fase di primogenitura della mano d'opera che poi troverà un vasto consenso all'interno di quella che siamo soliti chiamare classe operaia, ma che comunque è successiva. Qua siamo ancora ben prima degli albori dell'industrializzazione, la prima società operaia nasce, come ho detto, nel 1850, la storia dell'associazionismo savonese peraltro registra anche una serie di primati da questo punto di vista perché proprio nel comprensorio savonese nasce la prima cooperativa di lavoro italiana, nasce ad Altare nel 1856. Il mutuo soccorso qui, come nel resto d'Italia, è dilaniato da due tendenze. Una è quella quasi obbligata di dare di sé un'immagine moderata, quindi non un covo di Facino Rosi, ricordiamo poi che nel mezzo c'è l'esperienza nel 1848 europeo, poi successivamente la comune, quindi le riunioni e le associazioni operaie sono comunque non viste bene dalle dirigenze liberali, dal vecchio notabilato locale. Quindi negli statuti del mutuo soccorso, qui come altrove, è evidente ed è marcata questa specificità apolitica. In realtà sappiamo come ben presto le associazioni in mutuo soccorso prima e le cooperative dopo diventino un luogo di elaborazione politica, non solo, ma anche di dialettica politica abbastanza vivace. Le anime del mutuo soccorso che poi verranno riprese dalla cooperazione sono tante. Si parte da una fisonomia moderata che caratterizza prevalentemente le società piemontesi e alcune liguri, al mazzinianesimo, che è l'innervatura più rivoluzionaria per l'epoca e che connota le società operaie ligure più che altrove, vuoi per la propaganda mazziniana, vuoi per un territorio fertile già preparato dalla Repubblica napoleonica. Una terza componente che sarà importante dopo è quella confessionale, che avrà però una rilevanza successiva all'emanazione della rerum novarum nel 1893. In questa prima fase le società di mutuo soccorso laiche sono in mano all'elemento politico radicale e repubblicano, vivace sinché si vuole, ma non pronto alle rivendicazioni che non siano meramente salariali. Sarà un altro attore il sindacato che interverrà successivamente a prendere queste rivendicazioni e farle proprie. Le correnti politiche che attraversano il mutuo soccorso in questo periodo, parliamo del periodo che va dall'unificazione italiana agli anni 80 dell'Ottocento, sono le più disparate. Forse la corrente anarchica è quella che tocca meno il mutuo soccorso proprio perché fondamento dell'associazione mutualistica è l'autoorganizzazione disciplinata, quindi soggetta a precisi regolamenti, precisi statuti, spesso modellati sulla falsa riga dei club e sulle associazioni liberali e borghesi. Quindi questa disciplina che nello stesso tempo è caratteristica del mutuo soccorso lo sarà della cooperazione e poi del sindacato. Quindi parliamo di un vertice organizzativo, di una base, parliamo di una serie di regolamenti che dettano tutti i momenti della vita dell'operaio organizzato. Il mutuo soccorso offre tutti gli aspetti della socialità organizzata, quindi si va dalle feste danzanti al momento del teatro, al momento della discussione, anche politica, all'apertura di biblioteche e di gabineti di lettura attraverso i quali si veicola il discorso politico. Il faro del mutuo soccorso è l'azione solidale, solidaristica, quindi attraverso gli strumenti della mutualità. Il mutuo soccorso prepara i propri soci, ha una dialettica con l'industria nascente, con i primi conflitti di lavoro, ponendo la propria mediazione. È uno strumento di mediazione ancora primitivo, non è dotato degli strumenti sindacali, ma si pone come interlocutore nei confronti dei datori di lavoro. Quando questa mediazione non trova i suoi frutti per un motivo o per un altro, può essere una grave crisi occupazionale, c'è uno strumento che viene a supporto, uno strumento di autogestione che nasce proprio dal mutuo soccorso. Questo strumento è la cooperazione economica. La cooperazione di lavoro ha la capacità di assorbire la mano d'opera in eccesso, diciamo licenziata dagli stabilimenti, o in eccesso rispetto alla città. In questo momento parliamo dell'inizio dell'urbanizzazione di massa che colpisce Savona, mentre la cooperazione di consumo garantisce un calmiere nella sua azione priva di intermediari per le esigenze di base della popolazione. Sono esigenze alimentari, si tratta di far quadrare il pranzo con la cena, si tratta di garantire un vitto idoneo a sé e alla propria famiglia, e in questo interviene la cooperazione di consumo. La prima cooperativa di consumo nasce all'interno della società operaia, la società progressista dell'operaia di Savona, altre ne nascono negli stessi stabilimenti, ad esempio la Tardi e Benec, al proprio interno vanta una società di mutuo soccorso e una cooperativa di consumo, quindi con un contatto diretto con il mondo della fabbrica. Negli anni 90 la conflittualità operaia si innalza, il Savona nel frattempo è attraversato da una profonda radicale trasformazione industriale, il momento economico della cooperazione, il momento mutualistico si incrociano con il momento rivendicativo del sindacato. Di cui questi elementi costituiscono la cosiddetta triplice del lavoro, sono i tre aspetti che spesso hanno una vita, un antagonismo molto forte all'interno, ci sono momenti in cui primeggia l'azione sindacale, momenti in cui l'azione sindacale è di riflusso, quello che rende Savona un caso particolare è che è il livello di dialogo tra le varie associazioni, quindi tra le associazioni mutualistiche e il sindacato. A Savona il sindacato dialoga molto con la cooperazione, ad esempio in alcune crisi occupazionali come quella del 1904 è il sindacato stesso promuovere la formazione di cooperative tra tipografi, tra fabbri e cooperative di consumo, elemento non trascurabile perché non si riscontra nel resto della Liguria. La Prima Guerra Mondiale interrompe un processo che sia per il mutualismo che per la cooperazione aveva visto prosperare nel numero e nella qualità le associazioni savonesi. In realtà poi la vittima principale della guerra, oltre ovviamente ai milioni caduti e dispersi, è il mutualismo, è il mutualismo perché vede prosciugarsi sia le risorse economiche sia le risorse umane inghiottite dal conflitto. La cooperazione da par suo ha gli strumenti quasi per trarre una nuova linfa dalla guerra, perché è uno degli attori del fronte interno, è quello che garantisce attraverso il calmiere la sopravvivenza di chi non è andato al fronte, quindi è, anzi, proprio dalla guerra trae una linfa che la vedrà primeggiare nel primissimo dopoguerra. Tra il 1919 e il 1920 l'emergenza degli smobilitati, della marea di fanti che tornano dal fronte senza più lavoro, senza, con il problema della riconversione delle fabbriche successive al conflitto, genera non pochi problemi sociali, che poi confluiscono nel clima incandescente del 1919 e 1920, sino all'occupazione delle fabbriche. In questo momento si realizza, in tutta Italia, però noi abbiamo l'occhio soprattutto nelle realtà industriali del ponente genovese e della savona industriale. Si realizza quel soccorso rosso agli occupanti delle fabbriche che vede primeggiare le copertive di consumo, che anzi sono un anello di questo rapporto ininterrotto, che verrà interrotto solo dal fascismo, tra la città e la fabbrica. In questo l'aiuto agli scioperanti, un aiuto pericolosissimo dal punto di vista delle autorità, è costante e continua. E questa esperienza ci consente di tracciare un filo con l'esperienza successiva al fascismo, ovvero la ricostruzione. La presenza cooperativa nel Savonese lascia tracce talmente evidenti nel tessuto sociale che prima ancora che finisca la guerra, quindi parliamo del 21 marzo del 1945, 27 cittadini savonesi si riuniscono dal notaio per costituire la prima cooperativa di consumo, che poi, attraverso un lunghissimo processo di fusione e incorporazioni, diventerà l'attuale Coppa Liguria. Questo filo, che è tessuto da operai, artigiani, impiegati del Dazio, sono queste le ceti sociali rappresentate nella prima cooperativa di consumo, introduce anche un elemento di novità, ovvero il rapporto tra la città e la fabbrica, di cui la cooperazione è un anello fondamentale. non dimentichiamo che la fabbrica fatta eccezione per un breve periodo durante la Grande Guerra è un universo maschile. La cooperazione consente anche alle donne di un luogo di dialogo, un luogo di confronto, un'apparizione che non è una comparsata nella vivace politica e nell'economia dell'epoca. Noi abbiamo in mente le fotografie di donne davanti ai cancelli che portano materialmente i beni acquistati in cooperativa agli scioperanti e agli occupanti delle fabbriche. È un momento in cui città e fabbrica dialogano e dialogano attraverso il sindacato e attraverso la cooperazione. Forse l'elemento da mettere in maggiore rilievo è l'enorme coesione cittadina, ma anche il ruolo di queste forze che parliamo del CNL, parliamo delle commissioni interne delle fabbriche, ma parliamo della cooperazione come elemento che più di altri rappresenta la città al di fuori della fabbrica. Sono mondi che entrano in contatto, di cui abbiamo numerose testimonianze, o primi verbali di questa cooperativa, che sono densi di riferimento a quanto avviene fuori. Ci si pone il problema nel 1950, nel momento più caldo, o meglio l'inizio del momento più caldo, che la cooperazione non debba limitarsi all'aspetto commerciale, ma debba anzi intervenire pesantemente sulla realtà territoriale, sulla realtà del territorio. Da qui nasce la grande campagna di sostegno da parte del movimento cooperativo, prima all'occupazione dell'ILVA e poi al lungo e drammatico processo di ristrutturazione e di riconversione che porta a un dato di licenziamenti. La sola cooperativa di consumo di Savona, che nel frattempo è diventata alleanza cooperativa savonese, apre una linea di credito che in pochi giorni arriva a 3 milioni e mezzo di lire di allora a sostegno dell'occupazione delle fabbriche. Quindi quando è riconosciuto in quel momento il sostegno dell'intera città, ecco, uno degli anelli di congiunzione tra l'occupazione delle fabbriche e la città stessa è rappresentato dal movimento cooperativo. Grazie a tutti.